Di solito la politica si divide, oggi in quest'Aula la politica condivide. E le diamo atto, signora Ministro, di aver fatto un grande lavoro. Mi lasci dire, signor Presidente, che questo dare atto voglio condividerlo con il Presidente del Consiglio Draghi e con il precedente Presidente del Consiglio Conte, perché entrambi hanno avuto la forza e l'intelligenza di credere in questo, che molte forze politiche hanno posto all'attenzione del Parlamento nel corso degli anni e che ha visto in Italia viva dei convinti sostenitori. È stata la Leopolda del 2019 quella manifestazione nella quale lei, signora Ministra, ha per la prima volta fatto un programma di insieme. Lei per la prima volta ha presentato in quella sala, forse sarà utile capire che la Leopolda non è un'iniziativa di corrente, ma è un grande momento di elaborazione delle idee, una proposta organica che ha permesso in sedici mesi di passare da una comunità di donne e uomini quale quella della Leopolda alla Gazzetta Ufficiale, la prima vera risposta alla crisi demografica.